Il calcio è un'idea che parte dai piedi Dalla mente di un ragazzo e viaggia per il campo Il ricordo più importante che ho del mister Watt è proprio il suo modo di stare in panchina E l'educazione che dava alle proprie squadre Lui è entrato nei spoiatoi, ha chiuso la porta Io mi ero nascosto nei bagni E come è entrato mi fanno, dov'è? Ai giocatori, dov'è? Dov'è andato?